Nell'ambito di un'inchiesta sulle truffe al Servizio Sanitario Nazionale e Regionale coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari, in diverse regioni d'Italia i NAS hanno eseguito oggi 44 perquisizioni nei confronti di titolari di aziende farmaceutiche, informatori, scientifici del farmaco, farmacie, medici specialisti e di medicina generale. Inoltre sono stati eseguiti 17 ordini di esibizione di documentazione ad altrettante aziende farmaceutiche. Secondo gli investigatori il valore totale del giro d'affari delle truffe si aggirava intorno ai 20 milioni di euro, mentre il danno erariale ai danni del Servizio Sanitario Nazionale è ancora in corso di quantificazione. I provvedimenti hanno riguardato le province pugliesi di Bari, Brindisi, Bat e Foggia, oltre che ai territori come Napoli, Roma, Velino, Salerno, Milano, Imperia, Torino, Ancona, Potenza e Catania.